Udinese Inter, signori miei, e non so che dire, anche perché prima della gara di cosa vogliamo discutere e la guardo qui, sono messo a casa da solo, isolato col mondo, speriamo isolato perché poi sicuramente qualcuno aprirà la porta, ma non voglio traviarvi, disturbarvi, impiettosirvi Udinese Inter, guardiamola, pronostico, 0 a 0 Volete che rida Vido? Ho azzeccato gli ultimi due Me ne sbatto i coglioni Vediamo, francamente magari se finisce 0 a 0 neanche la vedrete questa live reaction, ma Lasciatemi in pace Sono in difficoltà, e allora vi lascio alla live reaction, ma prima Se volete scaricate OneFootball, come sempre lo ricordiamo per rimanere aggiornati attivi sul mondo del calcio per restare lì, no? Sempre con una finestra aperta sulla nostra Serie A Quindi Highlights è tutto ed è tutto gratuito Link in descrizione, ho qui il code per scaricarla Adesso Guardiamo la partita Forza Inter Forza Inter Andiamo bene Iniziamo proprio col piede giusto Col piede giusto E' bellissimo Lo ha fatto bello, bello, bello Mizzica, batte in punizione, pare Nicolino, batte in punizione, Nicolino Batte in punizione, Nicolino Perfetto, spettacolo, eh Spettacolo Bravo Nicolino Senza mordente Spettacolo No, 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 no Ma come ti fai sbagliato, ma come è possibile? Ma come diamone è possibile? Ma come diamone è possibile? Ma come diamone è possibile? Mi chiedo io, ma che cazzo è possibile? Ma come è possibile? Ah, cambia De Marco De Marco e Gagliardino per i due già ammoniti C'è mamma mia mamma mia l'unica suo timore è che non abbia il cartellino giallo non è che fa dei cambi in funzione a cambiare qualcosa nel gioco fa i cambi in funzione di chi ha munito questo preoccupa questo preoccupa per la giocata buona Lautaro ma non rischiare mamma mia guarda sembra una cosa la porta la porta la porta la porta ma chi ti arrabbi si è stato tu io a battere la remessa ti puro arrabbi si bravo a Odumbris mamma mia mamma che cross mamma mia ci vuole un fabbro ci vuole un fabbro ma ci vuole un fabbro ma bravo uno di quelli bravi una mezza azione degna di nota alle stellata mamma mia intervallo non lo so che volete che vi dica che volete che vi dica serve altro serve altro serve altro è andata bene è andata bene è andata bene è andata bene manneggia miseria mannaggia oh volo oh peccato mamma mia no mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma che parata che ha fatto, mamma che parata che ha fatto, mamma che parata che ha fatto andando, cioè se il Dzeko guarda che fa un disastro, se toglie il Dzeko fa un disastro, l'unico che ha fatto qualche stop, qualche sponda, l'unico che ha fatto qualche sponda, qualche giocata è Dzeko, se riesce a cacciare Dzeko veramente, non entra Gossens, entra D'Ambrosio, solta Gek mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, guarda che stanno come l'hanno mamma mia, mamma mia non ce posso credere, guarda che combinano guarda qua, guarda qua se portava la casa una pareggia oggi è oro portava la casa una pareggia è oro, sarebbe oro, 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 oro Olimpico oro olimpico guarda una grinda rispetto a noi ma hai ausato l'autaro che non hai toccato palla non hai visto biglia non hai visto biglia oggi non hai visto biglia non hai visto io ausato, giocavo a pallone ma c'è il vedente ma che cazzo i campi sta facendo questo qua ma che cazzo che i campi ha fatto questo qua che fra il pace come il quinto campo scioccato imbarazzato e scioccato è un calcio d'angolo regalato regalato dal più fresco ultimo cambio ultimo cambio mi ha messo De Vrij ultimo cambio mi ha messo De Vrij mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia Mamma mia, imbarazzante, imbarazzante, vergogna, 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 una cosa c'era di buono, il punto, una cosa c'era di buono, il punto se lo portavano a casa, una cosa, un palla di potagno, 4 contro 4, all'altro lato Aslan, Deurofeo da Samartic, Samartic, prova la finta, con la sua solita suonata, Deurofeo, cross morbido, seconda palo, Aslan per chiuderla, Aslan, 3-1 per ultimese, quella seconda partenza perfetta, vergogna, 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 Che 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 vergogna, Adesso per favore, fatemela finire, finisce, per favore, per favore, fischia, per favore, fischia, fischia, per favore, 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 grazie, 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 grazie che fischiamo, grazie, grazie. Osceni. 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 Uno schifo. Ho la mano rossa e ce l'ho. Ce l'ho rossa. Sous-titrage ST' 501